All'ultimo minuto, il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio ha commentato le sanzioni che la Juventus potrebbe ricevere dall'UEFA. Rimani aggiornato sulle ultime e migliori notizie sulla Juve, clicca mi piace iscrivendoti attivando tutte le notifiche. Come Di Maria, che se n'è andato, anche Juan Quadrada era un nome quasi certo per lasciare il club. Uno dei fattori per una sua uscita sarebbe l'età. Tuttavia, il colombiano ha confermato che la Juventus gli ha offerto un rinnovo contrattuale. La Juventus mi ha fatto una proposta, ma al momento non ci sto pensando, ho detto che ne parleremo più avanti. Speriamo di arrivare a un accordo e continuare a giocare ad alto livello. Ha detto il colombiano. Juan Quadrada è nel club dal 2015, ma il suo contratto attuale scade il prossimo 30 de mese. Commenta. Come valuti un rinnovo con il colombiano? Gabriele Gravina ha parlato della punizione che la Juventus potrebbe ricevere alla fine di questo mese. Sono il vicepresidente dell'UEFA, nonché il presidente della FIGICI. Credo fortemente nell'autonomia della giustizia. Non so assolutamente nulla, non dipende da me. È un argomento che non mi affascina. Sono affascinato dall'idea che finalmente in Italia abbiamo acquisito un momento di serenità per non influenzare non solo l'ultimo campionato, ma soprattutto i prossimi campionati. Abbiamo finito, ora mettiamoci all'opera, stabiliamo regole rigorose per tutti e andiamo avanti, ha detto Gabriele Gravina. L'UEFA potrebbe impedire alla Juventus di partecipare ai suoi tornei, in questo caso la Juventus sarebbe esclusa dall'Europa Conference League. Ma dimmi, cosa ne pensi delle parole del presidente della Federazione Italiana di Calcio?